Come investire i tuoi risparmi e non pagarci le tasse in maniera totalmente legale? Sì, si può fare. Forse non te l'hanno mai detto, ma sicuramente si può fare. Oggi ti metto il podcast, anzi il video podcast che ho registrato sul mio canale YouTube con una società di investimenti, Horizon, dove affronto questa cosa e ti spiego con dovizia di particolari, cioè mettendo tantissime slide dove spiegano chiaramente come si possa fare questa cosa in maniera totalmente legale. Ti invito a seguirlo tutto perché, come sempre, la promessa di questo podcast è che, ascoltandolo, diventerai sempre più informato su tutti i temi di educazione finanziaria. Quando verrai da me o andrai da un collega mio, ne saprai molto di più e sarai consapevole di cosa fare per i tuoi investimenti. Prima di iniziare ti invito, se non l'hai già fatto, se sei un vecchio ascoltatore, lascia una bella recensione, 5 stelle, lascia un like, lascia insomma quello che si può lasciare sulla piattaforma di podcast che stai ascoltando. Se invece sei uno nuovo, se ti piacerà l'episodio o i prossimi episodi, lascia una tua recensione, una tua stelletta, un tuo like. Dimmi anche quali potrebbero essere gli argomenti, i prossimi argomenti di cui ti piacerebbe che io parlassi. Come ti ho detto, quest'episodio lo potrai trovare sul canale YouTube Finanza Semplice integralmente con tutte quante le slide. Per prima salutarti e lasciarti all'ascolto dell'episodio, ti ricordo che sono un consulente finanziario, sono iscritto all'albo CF dal 1994 e ti puoi rivolgere a me per avere una consulenza su quelli che sono i tuoi investimenti, la banca, la parte assicurativa. Quindi puoi chiamarmi al 338-3169-801, scrivermi a info-alfonsoselva.it o andare sul mio sito alfonsoselva.it e fissare un appuntamento gratuito con me per parlarmi di come potrei io darti per i tuoi investimenti. Ti lascio alla seconda parte del podcast. E almeno il 5% di quel 70, qui parliamo di un 3,5, deve andare in aziende diverse dal Futsi Bip, ma anche dal Futsi Bip Cap, quindi delle medie imprese. Proprio per portare l'investimento il più possibile, sempre in modo di diversificazione, nelle micro cap, quindi quelle più piccoline, quelle che più di tutte hanno quella necessità e quella difficoltà nell'andare a quotarsi in borsa e a raccogliere fondi. Sempre diversificare, diversificare, diversificare. Il concetto è sempre quello, un mantra che noi consulenti finanziari diciamo sempre che giustamente il legislatore ha fatto suo. Esattamente, esattamente. Tra l'altro, ecco, qui non mi dilungo a leggervi tutto quello che state guardando nella slide, ma vorrei farvi vedere come dal 2017, ad esempio al 2020, il legislatore è intervenuto più volte cercando di migliorare, ottimizzare, offrire più spazio a come si gestiva quel pezzo di mercato. Quindi, fatto saldo che il 30% lo posso mettere in qualsiasi strumento proprio per diversificare, fatto saldo che il 70% vada investito in strumenti o aziende che siano con presa stabile in Italia oppure italiane appunto, quei percentuali che dicevo prima, quindi il 25 e il 5, sono state più o meno rimodulate per indirizzare i flussi verso le componenti della società che più avevano necessità di raggiungere questi flussi, questi capitali e quindi un'attenzione del legislatore sempre crescente. Questo, come dicevamo prima, ha beneficio non solo dell'investitore, dove abbiamo parlato di un vantaggio fiscale nell'esenzione delle imposte sui redditi, 26-12 e mezzo, e dell'esenzione di imposte su cessione, ma anche e soprattutto per i benefici per l'economia. Quindi, come vi ho anticipato all'inizio, supporto dell'economia reale, di arrivare direttamente a queste aziende, un 70% quindi è investito in emittenti italiani e almeno il 21% è investito su quelle che sono il tessuto sociale, il tessuto industriale che costruisce la base italiana, quindi il 21% almeno sulle PMI italiane. Marco, anche perché vogliamo ricordare una cosa, che investire in queste cose, soprattutto sulla parte che va non su titoli, diciamo di debito, ma su azionario, è quello che fa crescere l'economia, che poi è l'economia delle società private che crea lavoro, perché il BTP non crea lavoro, il BTP è, per cui tutti conoscono, è un debito che lo Stato ha verso i cittadini per pagare le spese del funzionamento dello Stato, ma lo Stato si crea dei posti di lavoro come dipendenti, ma poi non è quella la ricchezza veramente creata, la ricchezza veramente creata è quella delle aziende private, che creano ricchezza, che aumentano, che danno lavoro a chi produce per aumentare il PIL, ecco, volevo sottolineare la cosa, quindi beneficio che poi ricade su tutti quanti noi, perché se c'è più lavoro, c'è più creazione di ricchezza, va meglio per tutti, non è una cosa così campata in aria, riportarla più per terra, ecco. No, no, questo è un passaggio fondamentale anzi, perché effettivamente il discorso è proprio tutto lì, creare ricchezza, creare ricchezza, creare quel volano che possa far aumentare il PIL e di conseguenza in tutti questi anni si è parlato tanto di spread, spesa pulita, di debito pubblico, eccetera, qual è il modo per andare ad abbattere per il debito pubblico creare più PIL, o smetti di fare spesa? Sì, che non gli piace a nessuno, bisogna ripagliare le pensioni, la spesa sanitaria, la spesa, tutte le varie cose che nessuno vuole fare, quindi se non vogliamo fare queste, nessuno lo vuole fare, bene o male, devi far crescere il PIL, perché così se cresce il PIL quelle in paragone scendono di percentuale. Esattamente, quindi è fondamentale quello che stavi dicendo sull'economia reale e sulla crescita dell'economia privata in questo caso. Dicevo, come è stato preso tutto questo dal mercato? Beh, è stato preso decisamente bene, sarà come dicevi tu perché gli italiani amano l'esezione fiscale, quindi il beneficio fiscale di non pagare tasse, però sicuramente nel 2017 quando questa normativa entra in vigore, questi nuovi strumenti, che sono lanciati sul mercato, l'interesse da parte degli impensitori è sicuramente interessante. Quello che vi sto facendo vedere qui è la crescita delle masse che vedete qui sulla sinistra e i flussi che leggete sulla destra. Marco, diamo anche qualche dato in assoluto perché chi sente non credo di dire meno. Adesso qui vedi che abbiamo avuto una crescita delle masse ed è la linea azzurrina chiara che è arrivata a toccare i 20 miliardi nella prima fase di lancio di questi peer quindi nella seconda metà del 2018 per poi arrivare anche grazie all'effetto mercato a fine del 2021 oltre i 20 miliardi con invece una raccolta quindi flussi investimenti da parte degli investitori finali verso questi strumenti che ha superato i 20 miliardi già nella prima parte del lancio quindi nella seconda metà del 2017 poi ovviamente vedete come la diciamo un po' la novità e un po' anche il fatto che essendo un peer per ogni investitore il naturale la naturale discesa del flusso c'è stata ed è la linea 2 vedete che si va quasi ad azzerare intorno alla metà del 2019 e poi ci sono dei momenti di ripresa anche perché come dicevamo ogni anno si può investire una parte di questo capitale fino a raggiungere il monte complessivo e nell'ultimo periodo in realtà è stata abbastanza fiaca abbastanza fiaca anche perché nonostante i risultati che secondo me sono molto buoni per chi ha investito in questo tipo di prodotti nel senso che poi dopo i 5 anni la prima finestra 2017-2022 si è conclusa appunto un anno e mezzo fa e i risultati per chi è uscito da questo investimento sono stati buoni perché appunto hanno portato a casa del rendimento esentasse di fatto poi la crescita è venuta un po' meno la crescita quindi i flussi verso questo mercato sono venuti un po' meno anche perché come dicevo prima il 2022 ha sparegliato un po' le carte in tutto questo discorso Marco lo sai che intanto per dare una nota di colore i clienti periodicamente sia quelli nuovi sia quelli vecchi quando vanno a disinvestire rimangono sempre sorpresi e un po' anche un po' stizziti del fatto che lo Stato gli prende il 26% sugli investimenti ma il 26% ma lo prendete voi no e la tasca quando vedono hanno guadagnato 10.000 100.000 poi vedono quello che arriva sul netto e dice ma tu mi avevi detto ma quello è il guadagno lordo poi lo Stato è il 26% quindi è una cosa che tutti come lo stipendio a fine mese si sembra molto più alto ma poi il netto purtroppo ci sono le tasse ma fa parte di tutto di quel sistema della macchina che in qualche modo deve funzionare o dovrebbe funzionare e sicuramente la crescita dell'economia reale ci serve e dell'economia privata ci serve in questo caso tornando a quello che ha fatto un po' il legislatore non ci sono solo i PIR ordinari prima quando abbiamo iniziato questo intervento abbiamo parlato genericamente di PIR quindi di piani individuali di risparmio in realtà a un certo punto in questo racconto dobbiamo distinguere i PIR nel 2020 in realtà il legislatore introduce un'altra tipologia di PIR quindi se all'inizio quando siamo partiti con questa chiacchierata di oggi abbiamo solo parlato di piani individuali di risparmio adesso dobbiamo iniziare a parlare di piani individuali di risparmio ordinari e piani individuali di risparmio alternativi proprio perché nel maggio del 2020 il legislatore introduce quello che è un'altra possibilità per gli investitori ovvero quello di poter investire in società non quotate ovvero quando prima abbiamo parlato di PIR tradizionali PIR ordinari abbiamo detto che questi investono almeno una parte di questo patrimonio in aziende che fanno parte del FUXIMIB del FUXIMID oppure del micro cap ma pur sempre aziende quotate a un certo punto l'investitore il legislatore invece aggiunge un pezzo proprio perché ancora più difficile è per le aziende quotarsi in borsa quindi fare quel salto che le faccia passare dall'essere le aziende di gestione spesso familiare molto legate all'imprenditore a aziende pubbliche quindi quotate sui mercati tradizionali e allora un ulteriore passaggio verso questa crescita dei mercati arriva proprio grazie ai PIR alternativi PIR alternativi che hanno invece in questo caso un investimento come dicevamo sulle aziende non quotale per il resto invece condividono gli stessi vincoli e le stesse sogne diciamo dei PIR tradizionali quindi la possibilità di avere un beneficio fiscale se mantenete per cinque anni ma in questo caso l'investimento è possibile farlo fino a 300.000 euro in mano e fino a un milione e mezzo nel complessivo perché questo perché qui parliamo di aziende con una necessità di capitali diversi e anche un target se volete di clientela un pochino più alta quindi diciamo che il vincolo più alto di accesso a questo tipo di prodotti scusami qui mi devo correggere il limite massimo è più alto l'accesso a questo tipo di prodotti può essere alto o basso in funzione di quello che ogni casa di gestione ha portato poi sul mercato perché non c'è un vincolo diciamo legislativo diciamo che ad esempio nel nostro caso come azienda siamo stati molto prudenziali e sapendo che queste aziende sono non quotate quindi un po' come appunto quando uno va a fare degli investimenti o compra una cosa diciamo dove tutto è molto chiaro perché tutto è scritto nello su bianco o quando uno compra una cosa un pochino meno chiara ma semplicemente perché è nuova quindi è arrivata nell'ultimo periodo quindi la stai conoscendo secondo noi in questo caso come nel caso delle aziende non quotate è necessario che queste vengano gestite all'interno di un portafoglio un pochino più strutturato di un cliente un pochino più strutturato Marco scusa lì c'è scritto sogli di investimento è possibile investire fino a 150 mila euro sì deve esserci un refuso quindi questo pezzettino no no abbiamo detto 300 mila però vedevo scritto qua ecco è sbagliato questo qui da 150 mila hai ragione volevo sottolineare questo sono 300 mila all'anno 300 mila all'anno assolutamente 3 per 5 fa 15 fa un milione e mezzo in 5 anni esattamente corretto ho riguardato questo ho detto secondo me c'è stato qualche sbaglio nella slide perfetto a post non vorrei essere sicuro questo diciamo un po' il PIR per chi ha per clienti più capitalizzati più danarosi che vogliono diversificare e anche avere come ho detto prima la possibilità di non pagare le tasse su questa tipologia di investimento insomma 300 mila euro comincia a essere una discreta somma non tutti ce l'hanno da investire ogni anno però per dare anche a loro questa cosa e quindi adesso poi concludirei il discorso della FAD come l'avete tutta da voi per carità che è importantissimo però anche queste persone dicono ma io 40 mila per me sono pochi allora facciamo questo però il legislatore ha detto se tu sei uno di questi lo vogliamo concentrare su quelle che ancora non sono in borsa quindi tutte quelle aziende piccole piccolissime che vanno in banca hanno difficoltà a trovare finanziamenti gli arrivano questi soldi tramite questi PIR alternativi ecco questo è il concetto giusto? esattamente così e infatti ecco rispetto anche ai numeri che vi facevo vedere un attimo fa quindi la traiettoria di discesa un po' dei flussi che sono stati negli ultimi anni in realtà i PIR alternativi sono in crescita i flussi verso questi strumenti sono positivi oggi allora abbiamo una fotografia diciamo al 31 marzo quindi l'ultimo trimestre concluso dove vediamo una decrescita dei PIR tradizionali ancora proprio per una questione di flussi e una crescita di oltre 70 milioni di euro di raccolta sui PIR alternativi quindi una crescita importante oggi il mercato è rappresentato circa da 17 miliardi investiti sui PIR ordinari e circa 1 miliardo e 700 milioni sui PIR tradizionali quindi un mercato ancora se volete più di nicchia un po' la dinchia in generale è un mercato che continua a crescere proprio perché dà accesso a quei mercati che generalmente sono veramente riservati o ad investitori particolarmente patrimonializzati penso a quelli che sono interessati al private debt al private market ai club deal in questo modo se vuoi più semplice per investire in questo tipo di aziende ovviamente di nuovo scusami la ripetizione diversificando tanto il rischio ma pur sempre investendo in delle strategie che possono dare nel medio e lungo termine delle buone prospettive di risultati ecco vi faccio vedere quindi velocemente una differenza qui il numero è corretto dicevamo 300.000 euro all'anno ovviamente vedete che qui avete un piro ordinario che è una forma aperta quindi un investimento che si può comprare e vendere quotidianamente quindi con un nav che è anche qui un'altra sigla delle nostre del nostro mondo diciamo un un valore di quotazione quanto vale quella quota che si può prendere giornalmente nel 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 per alternativo il la valore di quotazione è mensile quindi non c'è una quotazione tutti i giorni uno generalmente è appunto aperto l'altro ha tipicamente una forma chiusa quindi un investimento che si acquista per mantenermi per un tot di periodo la liquidità ovviamente si passa da uno strumento più liquido perché è quotato sul mercato quindi prezzato quotidianamente a uno strumento il liquido o semiliquido dipende dal punto di vista di come è costruito lo strumento la finalità di fatto è la stessa abbiamo le piccole e medie imprese o piccole e medie imprese micro cap quindi aziende che si stanno andando a quotare entrambe godono degli incettivi fiscali con come abbiamo detto soglie di ingresso e massimi di investimento differenti per il resto le due forme hanno diciamo lo stesso scopo quello di far crescere le aziende del nostro web paese concluderei questo diciamo questo ragionamento poi magari mi dici tu se c'è qualche curiosità ancora con alcuni numeri in realtà questo è un graffito che mi fa vedere le performance dal 2017 a fine dicembre del 2023 dei vari indici che compongono il mercato italiano su questo vorrei raccontarvi due cosine la prima è che ovviamente qui vedete merci diamo lì un attimo un nome Fuzzi Mib che è il mercato principale quello che siamo abituati a leggere quello che quando leggiamo sui giornali lo sentiamo è quella e parliamo di quello generalmente è questo qui abbiamo un Fuzzi Italia All Share che comprende sia il mercato Mib quindi le aziende diciamo quelle a larga capitalizzazione in modo dei bancari in modo dell'energia eccetera le utilities poi abbiamo il mondo delle mid cap questa linea verde quindi aziende medi operandi le aziende star che invece vedete qui rappresentate da questa linea blu dove vedete questo esploit che vi racconto tra un attimo sono le aziende che stanno tra i 40 milioni e il biliardo di capitalizzazione e poi l'Italy Groft che è questa parte un po' più verde e più drigia qui sotto che ha comunque avuto una crescita in questo caso avuto una crescita ma poi si è rimagiato a parte di questo che sono le aziende le più piccole in questo caso e che effettivamente nell'ultima parte degli ultimi due anni non stanno brillando per crescita anche perché e qui arriva quello che vi stavo anticipando prima il 2022 con il rialzo dei tassi ha segnato uno spatti app perché ovviamente fin tanto che non c'erano tassi sul mercato questo tipo di investimenti attraeva molto interesse da parte degli investitori interesse che in parte è stato trenato proprio dal ritorno di appetito sul mondo del tasso quindi dove c'è rendimento dal punto di vista delle obbligazioni Marco ricordiamolo perché magari molte persone se lo sono dimenticate fino a fine 2021 inizio 2022 i tassi erano a zero esattamente se non sotto zero anche negativi però diciamo e quindi oggi sappiamo i tassi stanno intorno al 4 4 e mezzo 3 e mezzo dipende lunghezza però erano a zero e quindi per queste società andare sul mercato andare in banca trovare dei finanziamenti non costava niente o quasi nulla con il rialzo dei tassi più la società è piccola più la società ha un rating più basso più la società è meno capitalizzata e più gli costa questo denaro quindi quando costa di più chiaramente dovrebbe guadagnare molto di più per arrivare a un utile magari è quello il motivo per cui c'è stato questo periodo di ribasso certo questo sicuramente ha un impatto vedete ad esempio come quello che dicevo prima vedete qui la linea arancione come dal 2022 cresce sopra tutte le altre perché ovviamente l'abbiamo detto all'inizio il mercato principale italiano è fatto da titoli bancari titoli delle utilities titoli che in questo contesto di mercato quello di tassi più alti riescono a fare meglio infatti qualche anno per il mercato italiano lo scorso e quest'anno per il mercato italiano riesce a fare dei rendimenti fatti veramente interessanti non è sempre stato così e lo vedete come la linea è negli anni passati l'altra cosa che secondo me è importante segnalare è che ovviamente di fronte a questo rialzo dei tassi appunto le aziende più piccole se negli anni precedenti andavano a quotarsi perché cercavano capitali diversi in questo momento alcune aziende addirittura sono uscite dal mercato è notizia di questa mattina in realtà è notizia da un po' di tempo ma oggi sta conformata ulteriormente dell'offerta pubblica di acquisto quelle che vengono chiamate OPA di TOTS TOTS è l'azienda della valle che sta portando via il titolo dal mercato in questo momento perché perché la valutazione di questi titoli oggi è a buon mercato quindi leggete bene tra le righe quello che vi sto dicendo oggi i tuoi titoli sono a buon mercato che se io sono un imprenditore un fondo di investimento che posso detenere quella partecipazione me la posso riportare a casa ad un valore basso di quello che era e ho la liquidità per farlo allora faccio quelli che tecnicamente nel nostro mondo si chiamano buyback mi ricompro quindi ricomprare indietro portare indietro queste aziende è quello che sta succedendo sul mercato ma l'altro lato della medaglia è che sembra con i consumenti finanziari ne parliamo spesso e tutti cerchiamo di trovare una risposta sembra che siamo arrivati alla fine di un ciclo di rialzo dei tassi che ci ha portato a vedere i nostri mutui tornare a costare molto di più fare un finanziamento costare molto di più quindi il rialzo dei tassi abbiamo avuto il 2022 poi e sembra che nella riunione prossima per la banca centrale che è prevista questa settimana forse inizierà il primo taglio dei tassi dal 2022 ad oggi Marco dobbiamo dare una piccola spiegazione la integro un secondo del perché per esempio TOTS si sta riprendendo perché la differenza fra prezzo e valore allora il prezzo sul mercato è sceso ma il valore della TOTS non è che se le azioni che ne so sei mesi fa valevano 100 e oggi valgono 50 la TOTS sta chiudendo i negozi non vende più no il valore della società bene o male a meno che non succede a chissà quale cataclisma è lo stesso quindi il mercato la sta apprezzando più bassa però siccome l'imprenditore e i fondi che sono dentro ritengono che il valore sia molto più elevato di quello che è il mercato che esprime il mercato dice io me la ricompro la ricompro a un prezzo più basso e faccio un grande affare perché poi sono sicuro che nei prossimi mesi e anni il valore mi farà guadagnare molto di più cioè il mercato non sta apprezzando bene per tante motivazioni quello che è il valore della società quindi sempre prezzo e valore sono due cose diverse confondiamo questo è fondamentale è un po' il lavoro degli analisti di chi fa questo sul mercato tutti i giorni andare a capire un po' il valore e il prezzo delle società capire se quel prezzo espresso dal mercato è un prezzo corretto è troppo alto o troppo basso e lì si decide se entrare in un investimento oppure no questo dovrebbe essere un po' la base infatti quando è molto alto fanno il contrario quando è molto alto collocano delle quote societarie sul mercato per andare a sfruttare il momento dove il mercato magari le sta sovraquotando del reale valore fanno il contrario quando il mercato fa il contrario è normale esattamente infatti ecco in questo momento diverse ricerche diversi studi danno il secondo semestre di quest'anno e potenzialmente i prossimi a venire poi ovviamente non c'è mai un momento perfetto un timing precisissimo se riuscire a fare queste cose però stimano dal secondo semestre del 2024 un ritorno di interesse verso questi mercati verso questi mercati perché perché il ribasso dei tassi dovrebbe riportare interesse su titoli che hanno delle valutazioni oggi molto molto basse e quindi potenzialmente interessanti per gli investitori infatti questo era il caveat per dire potrebbe perché dire non dirlo mai potrebbe essere un buon momento per rientrare in questa tipologia di investimenti su queste società così particolari che siccome sono sotto quotate nei prossimi mesi anni potrebbero riprendere molto il loro guardiamo se sottolineare ecco il grafico la parte marrone come è cresciuta nei momenti molto buoni esatto questa ad esempio è una di quelle fasi che abbiamo visto crescere molto quindi potrebbe essere l'occasione sfruttare il risparmio fiscale che è una cosa da non dispezzare e anche sfruttare il discorso di finanziare l'economia italiana per far crescere le pille e tutto quanto e anche avere un buon rendimento nei prossimi mesi anni su questo comparto non so se sei d'accordo su questa analisi assolutamente sì il punto è proprio quello ora vedremo se effettivamente il taglio di tasse arriverà siamo agli sgoccioli mancano pochi giorni il 6 giugno come continuerà soprattutto certo certo avevi ancora qualche cosa da farci vedere su questo campo no io avrei finito qui se ti viene tu a te qualche altra domanda che possiamo dare qualche altra informazione se no io ti ringrazio no guarda era tutto quello che volevo sottolineare che per dire che molti mi chiedono come ti ho detto no ma ci devo pagare le tasse sì però l'alternativa è fare queste cose cioè se non hai un PIR ordinario fino a 40.000 euro all'anno lo puoi sottoscrivere se sei un investitore con molti più soldi puoi fare fino a 300.000 euro all'anno e quindi con tutte le problematiche sono del discorso che non è liquido abbiamo detto però magari dopo 5 anni hai guadagnato un bel rendimento non pagarci il 26% di ritenuta secondo me è un grande vantaggio è un grandissimo vantaggio quindi un metodo legale per non pagare perché sottolineiamo legale per non pagare le tasse del 26% sui guadagni che fai queste cose esiste basta sfruttarlo quindi chiamami parliamo insieme e vediamo come fare per costruirlo intorno al tuo profilo di investitore vediamo chi sei come sei messo scusa una domanda confermi che è per codice riscale quindi se io vado se io compro un fondo PIR alla società e un altro fondo PIR con un'altra società non posso avere due è uno solo sì con la normativa attuale c'è un'unica possibilità quindi un PIR per codice fiscale qualora si superassero poi quelle soglie che tra l'altro è una cosa possibile perché poi il limite diciamo di fiscalità sono 30-40 mila euro scusatemi l'anno e 200 mila euro nei 5 anni qualora si superasse quello si può andare in classi che vengono definite non PIR quindi stesso investimento ma senza il beneficio fiscale però diciamo questo è lo fai alla moglie lo fai alla moglie lo fai al marito lo fai ai maggiorenni insomma altra cosa i PIR altra domanda che mi hanno fatto io riporto a te i PIR li possono fare le società? no perché è soltanto per investitori fisici quindi persone fisiche quindi non persone giuridiche quindi le società non possono partecipare a questa cosa se hai una società devi avere soldi tuoi personali per poter fare l'investimento sulla parte PIR questa era una domanda altre domande non so se tu hai qualche particolarità che puoi diciamo ecco un investitore che ha un PIR ordinario può essere anche un investitore di un PIR alternativo questo sì cioè la normativa permette la possibilità di coesistenza tra un PIR ordinario e un PIR alternativo quindi si possono avere entrambi esatto se hai abbastanza soldi puoi farli tutti e due e cogliere il massimo di risparmio fiscale perfetto so se hai qualche altra informazione importante da dire ma abbiamo detto tutto direi che abbiamo sloccionato abbastanza la questione come vi dicevo secondo me la parte interessante arriva adesso vediamo questo questo mercato che spunti ci darà sicuramente questo tipo di investimenti è da guardare nel medio termine quindi ecco io il suggerimento che do il modo di leggere questo tipo di strumenti è proprio guardare una parte di portafoglio che voglio accantonare per un tot di tempo e lasciarlo lavorare questa è proprio la soluzione per lasciare lavorare il capitale medio e lungo termine come diciamo sempre noi di finanziare sicuramente senti Marco ti ringrazio ti ringrazio molto per l'intervento per la chiarificazione su questa cosa che così quando chi lo sentirà potrà rivolgersi a me capire come fare per adattare questa cosa a se stesso grazie ancora grazie a te ci sentiamo alla prossima occasione grazie a te Alfonso grazie a tutti grazie a te grazie a te